Una mostra particolare che unisce grandi capolavori alla disabilità, di che cosa si tratta? Più che una mostra è proprio un progetto, è un progetto che vuole proprio sottolineare il tema dell'arte come inclusiva. In questa mostra infatti Adamo Antonacci ha reso protagonisti dei ragazzi con disabilità creando dei tableau vivant e facendoli ricitare come attori principali, i ragazzi e le loro famiglie. È un progetto che ha avuto diverse sedi, ha già avuto diverse sedi in Italia e qui al Museo di Ocesano abbiamo voluto aggiungere un piccolo tassello, non solo raccontare il backstage di questa mostra per far capire bene il progetto, ma insieme a Consulta per la disabilità e a Anfas Nord Milano abbiamo coinvolto delle persone con disabilità che saranno delle guide speciali per i nostri visitatori. Si sono messi in gioco anche loro e in questo modo hanno potuto fare realmente un'esperienza di bellezza e noi pensiamo proprio che il punto sia questo. Tutti noi partiamo da un grande desiderio che abbiamo nel cuore di bellezza, di senso e vedere all'opera questi ragazzi illustrare come hanno fatto nelle prove generali ai visitatori appunto il senso di queste opere è davvero un'esperienza incredibile che sono felice di poter condividere con tutti. Qual è il significato di questa mostra e come unire disabilità a grandi capolavori? Allora il significato della mostra è che solo attraverso gli ultimi è possibile vedere e scorgere Dio, scoprire Dio. L'idea appunto di far coincidere il sacro con la disabilità per cui la figura del Cristo, della Madonna con le persone disabili sta a significare proprio questo, cioè io posso conoscere Dio solo attraverso gli ultimi. Qual è la cosa che le è piaciuta di più nel curare questa mostra? La cosa che mi è piaciuta di più è stato lavorare con dei ragazzi disabili, tra virgolette, perché poi tutto è relativo e scoprire ogni giorno la loro umanità e non soltanto attraverso di me ma anche attraverso lo staff. Avevo dei colleghi che non avevano mai lavorato con ragazzi disabili e per cui non erano abituati al loro contatto visivo, al loro contatto fisico, agli abbracci, ai baci. Per cui via via che andavamo avanti a lavorare vedevo anche i miei compagni dello staff, i miei colleghi, sciogliersi, cambiare, rompere quegli schemi mentali e fisici nei quali noi generalmente siamo costretti e di cui invece loro sono liberi. Ovviamente in una mostra così non poteva mancare la consulta diocesana sulla disabilità. Assolutamente sì, abbiamo voluto fortemente questa mostra dal momento che abbiamo conosciuto giugno scorso Adamo e subito abbiamo visto una possibilità per come consulta entrare anche in un mondo in cui non avevamo ancora avuto a che fare che è il mondo dell'arte perché costituisce io credo anzitutto anche questo ambito una possibilità per le persone con disabilità. Nel senso che le persone con disabilità hanno anche desideri, passioni e c'è gente e lo dimostrerà anche questa mostra visto che alcuni ragazzi con disabilità faranno da guide che possono avere delle passioni da coltivare. E poi attraverso il linguaggio dell'arte vogliamo lanciare nuovamente il messaggio che è il medesimo è sempre quello di tentativo di cambiare una cultura, uno sguardo sulle persone con disabilità ma questa volta non lo facciamo con convegni, non lo facciamo con argomentazioni, con discussioni lo facciamo con delle immagini bellissime che hanno come protagonisti ragazzi con disabilità e non si può spiegare una mostra, bisogna venire a vederla, assolutamente. E noi la vediamo.